Oasi di Lambro Meridionale, dopo la copiosa nevicate di venerdì, è un sabato, si va a controllare l'ex appostamento fisso di caccia. Il paesaggio è incandato. Fa già l'imbolo, e procede, Martin Pescatore, Beccaccino. Questa è l'Oasi Lambro Meridionale, oasi istituita due anni fa, grazie alle pressioni del WWF Italia, che ha inserito questa particolare zona umida alle porte di Milano, nel piano faunistico venatorio, come oasi di protezione. Ci sono voluti due anni per ottenere la tabellazione dell'aria, e questa è la prima stagione venatoria in cui la caccia è chiusa, e la selvaggina è aumentata moltissimo.